Ciao a tutti ragazzi, qui è Snachino e insieme a noi c'è Essir Dynamite09 Ciao ragazzi Bene, qui oggi siamo a un nuovo episodio di operazioni speciali e quest'oggi siamo con Toccata e Fuga A quanto sto vedendo il caricamento è molto lungo quindi penso che questa parte del caricamento la toglierò e andremo diretti al video Eccoci qui ragazzi Vediamo un po' cosa prendere Sì, ragazzi prima ho giocato a Left 4 Dead, adesso stavo scambiando i tasti con quelli di Left 4 Dead Vabbè Dimmi quando posso andare Quando vuoi, ma mi sa che ce l'hai tu il cecchino adesso Sì, è quello dico Vai vai Ok Vai famo una strage Ok L'elicotteri Stanno arrivando? Ok, morì tutto giù Uno è andato L'altro dove sta? Ancora Ok Ok Gli elicotteri si sono spriciolati al nostro cospetto Stai ancora della, vivo? Sì, sì Io continuo a uccidere i miliziani Ok, perfetto Ok Devo scendere Fammi caricare e io scendo Allora Come potete vedere ragazzi qui dobbiamo fare prima piazza pulita E poi andare a uccidere l'altro bersaglio Anche qui non fatevi prendere dalla fretta Prendetevi il tempo che volete Sirdane, mi sa che devi uccidere i bersagli a lunga gittata Perché stanno cecchinando tutto spiando Eh, sono nascosti Quindi Oh, già arriva Ok Eccolo, eccolo Ok Vediamo, vediamo che c'è stato qua Una gappa Ok, manca l'ultimo Ok No, faccio gli ultimi due Vabbè, tu uccidi, uccidi tranquillo Ok, liberato un altro po' qua Vediamo, il bersaglio dovrebbe stare là dentro Ci stai? Hai ucciso tutti? Sì, forse ne rimane uno Ecco, ucciso Più a nord Vabbè Qua dentro sta, no? Dove stai? Ecco Sì Ok, ucciso Ok Ho finito io Quasi colpi de Del mitragliozzo Vabbè, abbiamo La cappa da terra Vabbè, abbiamo Vostaggi Ecco, là qualcuno Amazzo io quello vicino agli ostaggi Ok, ok Ostaggi liberi Ok Vado là A cercare i liberali Io metto Ma a posto qua Al cancello Cooper lancia un fumaggio Oh, stanno arrivando un bordello di persone Oh, che ho trovato per terra Sì, strage Sì, sì Che bello Oh, continuo a sparare Perché sto caricando Ok Eh, io anche Ci metto una vita Mi lagga un po' Ma sto facendo una strage Ma no Come faccio? Mi avvicino io, tranquillo Sì, ma sono veramente troppi Tanto io muoio fra un minuto e quindici E l'estrazione è tra trenta secondi Perciò Quindi come devo fare Per salvare gli ostaggi? Eh, aspetti che arrivo Ecco, quindici secondi Dai, quasi Vuoi lasciarla per terra morto? Oh, oh, ti sto pure sparando Non lo so Oh, stanno a scappare Eh, è venuto l'osprey Oh, ti salvo Oh, panico Perfetto Benissimo ragazzi Anche questa operazione speciale è fatta Non so se vedrete un po' tutto a lag Perché mi laggavo un po' Però anche questa è fatta Lasciare un compagno per terra Può ripagare Va bene Anche questo episodio è andato ragazzi Al prossimo episodio O la settimana prossima Ciao a tutti Da Snachino E da Danimit09 Sì, arrivederci Quanto sei vecchio Ciao